L'Associazione dei Piemontesi a Roma festeggia la bagna cauda e la trippa. Allora, due prodotti di tradizione. Su Liberi.tv parliamo appunto delle tradizioni, come nascono ma soprattutto come vengono portate avanti. Ma è uno dei nostri fini statutari, è quello di far conoscere la cultura piemontese. Nella cultura piemontese c'è anche la gastronomia. La bagna cauda è un piatto tradizionale, è un piatto che noi proponiamo ormai da diversi anni in collaborazione con questo ottimo hotel che ha un bellissimo ristorante, ma soprattutto noi la bagna cauda la affidiamo alle mani di uno chef che viene da Calosso, che è Vito Nolè, perché garantisce la qualità. In più facciamo venire i prodotti, il ciapinabò, l'aglio, il vino. Devo dire tutte sponsorizzazioni perché noi cerchiamo di promuovere i nostri prodotti anche sulla piazza di Roma. Nella tradizione piemontese questo era un piatto da consumare e in compagnia. Raccontiamo un po' questo rituale meraviglioso che stasera un po' si ripete proprio come in una grande famiglia. Ma noi generalmente lo ricordiamo questo. La bagna cauda nasce dai prodotti invernali. Una volta c'era l'olio di noce e poi è stato sostituito con l'olio di oliva. C'erano le acciughe che erano di passaggio tra la Liguria e il Piemonte. Era il pesce conservato sotto sale e si usa l'aglio che viene conservato. Noi per fortuna quest'anno, come anche l'anno scorso, abbiamo l'aglio doc di Caraglio e ringraziamo chi ce lo ha fornito. Ma insieme a questo abbiamo dell'ottima barbera di Rocca e Costamania e guarda caso quest'anno, che è il 31 di gennaio, ricordiamo anche San Giovanni Bosco e ricordiamo il bicentenario di San Giovanni Bosco per cui è un nostro modo di ricordare anche questi rimandi piemontesi e regionali ma soprattutto noi raccogliamo 160 persone intorno al nome del Piemonte. Grazie, la serata sta per iniziare e quindi naturalmente un grande successo anche in questa edizione. Io voglio esprimere un ringraziamento a tutti coloro che veramente ci hanno dato una mano. Noi sappiamo di essere gli interpreti su Roma della piemontesità ma non riusciremo a farlo se non avessimo tanti agganci e tanti apporti che ci pervengono da questo rapporto continuo che abbiamo con il Piemonte. Grazie. Grazie. Grazie.